Saranno inaugurati durante la settimana della mobilità sostenibile a Bitonto il park and ride di via Messeni e l'annesso servizio di bike sharing ad annunciarlo il vice sindaco Rosa Calò durante la presentazione dell'evento bitontino legato alla European Mobility Week che punta a favorire mezzi di trasporto meno dannosi per l'ambiente in tutta Europa. Una settimana della mobilità sostenibile giunta alla quarta edizione anche se in città non c'è l'ombra di piste ciclabile se si esclude l'aborto del percorso realizzato nel 2008 lungo la Mabalice per la Calò le piste ciclabili però non sono indispensabili per incrementare l'uso di mezzi di trasporto alternativi alla propria auto basta adeguare la rete viaria già presente e progettare le nuove strade in modo che siano adeguate al passaggio in sicurezza di bici e pedoni eppure già da alcuni mesi il sindaco Michele Baticchio aveva annunciato la realizzazione di un percorso ciclo pedonale che avrebbe unito il park and ride con piazza Cavour un progetto che secondo la vice sindaco per come è stato concepito entra nella stessa ottica non una pista ciclabile realizzata ex novo ma attraverso una serie di adeguamenti di un percorso viario già esistente sul tema del park and ride le novità più interessanti entro la settimana della mobilità sostenibile che si celebra dal 16 al 22 settembre il parcheggio per auto con annesso servizio di bike sharing sarà inaugurato ed entrerà regolarmente in funzione